Questo è il mio cane, basta dirgli Cagnolina, che lui parte ai 200, no? Guardate, adesso è seduto, no? Tranquillo Guardate com'è, attenzione Andiamo! Dai, vai giù! Andiamo, andiamo, andiamo! Ma parte il 200 È il primo Guardalo Guardalo Dai, 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 dai Basta, c'è finito Basta Sei indeciso Ti sei reso conto che sei brutto e che non ti vuoi... Ah, no, ecco che Sì, ma renditi conto che io non ti porto fuori No, non ti porto fuori Te vai fuori, innosi due alberi, fai una pisciata e torni dentro Hai capito? Dai Dai Dai, vieni a fare una pisciata Guardalo, 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 guarda che forte No Molto tranqui C'è dei momenti di crisi Adesso, no, aspettami qua che vengo dove Nè Nè Nè, aposto Grazie.